Torniamo a parlare del caso dell'ortopedico finito in manette con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Che cosa succedeva? Che la violenza almeno su sei pazienti, chissà quanti ce ne sono, in tantissimi anni in cui questo medico ha operato addirittura in un ospedale pubblico, questa in età pubblica, e questo medico narcotizzava le sue vittime, le immobilizzava e abusava di loro. Dall'altra parte della nostra telecamera, lo state vedendo, in diretta c'è una delle vittime e il marito di questa vittima. Ora mandiamo questa copertina. Un medico che ha approfittato della fiducia delle sue pazienti. Ci sono molte vittime, questa signora è stata la prima però a denunciare e grazie a lei sono state svolte delle lunghe indagini che hanno bloccato questo medico. Mi ha messo sul lettino, poi mi ha messo uno spray e dopo non ho capito niente. Mi baciava sulle facce, sulle orecchie, mi disse che bella lingua ce l'hai. Approfittava di loro e le abusava. Credevano di andare da un professionista e quella stanza diventava per loro una prigione. Gli inquirenti stanno continuando nella fase delle indagini preliminari ad ascoltare altre vittime. C'è una notizia che vi vogliamo dare. Sembra che dopo anche la nostra diretta dove l'appello è stato questo, chissà chi ha subito le stesse cose di questa donna che state vedendo di spalle, parli e vada a fare denuncia. Sembra che il numero delle vittime di questo medico stiano aumentando in maniera importante. Roberta, questa è la notizia di oggi. Sì, buongiorno Eleonora e buongiorno a tutti. Fino a questo momento erano cinque le vittime che erano state ascoltate nel corso delle indagini. Partite, ricordiamo, grazie alla signora Maria che ha avuto la forza di denunciare. Di queste cinque abbiamo la scorsa volta lasciato la diretta dicendo che di queste cinque una aveva formalizzato la denuncia querela. Adesso c'è una novità. Dopo la nostra diretta una nuova vittima, la sesta, ha denunciato il medico per le stesse violenze. Le violenze subite durante una visita. La denuncia è stata immediatamente trasmessa al pubblico ministero, la dottoressa Masetti, sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, che sappiamo, con molta probabilità, ascolterà la vittima proprio nelle prossime ore. Per cui, diciamo, questo appello è arrivato ed è stato ascoltato. Il fatto dell'abuso sessuale di questo medico, che, ripeto, non so per quanti anni di carriera, perché adesso è in pensione quest'uomo, ma continuava a visitare in termini di sanità privata, non più pubblica, ma ha lavorato per anni in un ospedale pubblico. Ora, Roberta, tu hai anche il marito della vittima che vuole parlare, che è lì vicino a te. Prego, signor Franco. No. È una famiglia distrutta. È una famiglia distrutta e lui vuole lanciare un messaggio. Non ha mai lasciato sua moglie, ma oggi vuole far capire che cosa significa il dramma che vive non solo sua moglie, ma tutta la famiglia. Franco. Io dico soltanto di avere giustizia, perché a casa mia non è vita più, non si vive più. Quindi una persona fa tanto, no? Per poter curare magari il proprio vicino, la moglie, anche con i sacrifici. Magari lo fai per il bene. Poi magari, perché mia moglie disse, no, ma la visita, il pagamento. Io dissi, quando c'è la salute non si guardano i soldi. Vai e curati. Ma non immaginavamo mai che succedesse una cosa del genere. Quindi io vorrei soltanto dire che questa persona deve andare in prigione. No, ma già ci dovrebbe essere, secondo me. Già ci dovrebbe stare, per quanto mi riguarda, in prigione uno che ha fatto una cosa del genere. C'è una cosa terribile. Fra l'altro lei ha accompagnato sua moglie a fare questa visita. Vogliamo ricordare che cosa è successo durante questa visita? Il nome è la signora Maria, chiaramente un nome di fantasia. Maria? Sì. Sì, buongiorno. Tu l'altra volta mi hai detto che non riesci più ad abbracciare i tuoi figli, tuo marito. Che questa persona ti ha causato dei danni oltre fisici, morali, umani, indelebili, sentimentali, emotivi. Che cosa vuoi dire oggi? Che appello poi vuoi fare? Che cosa è successo durante quella visita e poi hai deciso di andare subito a denunciare? E grazie a te che c'è l'indagine in corso. Buongiorno. Io sono andata per fare questa visita. Il dottore mi ha messo sul lettino. E sul viso mi è passato con un spray. Cosa è un anestetico? E dopo non è capito niente più. Più dopo di dieci minuti sentiva parole di lui che mi abbinava, vigno di orecchio, nella faccia. Che bella lingua c'è lei. Che sta mi fai pazzire. E mi faceva massaggio sul colo. E poi ha abusato di te. E poi mi dinchiavo qui. Senti Maria, tu hai ascoltato la notizia che c'è una persona, un'altra vittima che ha parlato, no? Cioè che la tua testimonianza oggi serve per tante altre vittime che sicuramente ci sono. In tanti anni questo chissà che cosa ha combinato in tutti questi anni e forse mai nessuna donna ha avuto il coraggio di denunciare, il coraggio che tu hai avuto. Io sono orgogliosa di te e del tuo coraggio e della tua forza. E ti ringrazio di essere in diretta oggi. Però mi chiedo, come è possibile che un profilo di questo genere, me lo deve dire lei che profilo è, Santino, di un uomo, fra l'altro medico, che abusa delle donne in questa maniera, come può pensare che poi la fa franca, chissà per quanto tempo è rimasto senza una punizione quest'uomo? Ha abusato della sua posizione di forza, naturalmente quando... Lei che è un medico. Quando un paziente arriva allo studio in una posizione di sofferenza e debolezza, arriva lì perché chiede aiuto. E naturalmente il medico si sente in una posizione di poter dare aiuto ma anche in una posizione di maggiore forza. E' naturale che è difficile fare una valutazione di quale è il quadro psicopatologico di questa persona e non per forza bisogna giustificare questo tipo di atteggiamento con una difficoltà di tipo psicologico-psichiatrica. Possiamo sicuramente pensare che c'è una scarsa capacità di empatia col paziente, che è invece la prima dote che un medico dovrebbe avere, perché mi pare di capire... Ma non è solo una scarsa, ha violentato le persone narcotizzando. Ma no, quando dico mancanza di empatia, che non riesce a riconoscere l'altro come una persona, in quel momento lui riesce a sentire soltanto i propri desideri. A me sembra questo. C'è qualcosa di molto gretto. E la cosa più brutta è che utilizza anche uno spray che molto probabilmente sarà un anestetico. Mi viene da fare un paragone, no? È una cosa molto diversa, ma quando c'è l'omicidio stradale, no? C'è un aggravante perché viene utilizzato se il soggetto ha bevuto... Dovrebbe esserci un aggravante perché la narcotizzava. Ma certo, ma c'è sicuramente l'aggravante. Allora, vediamo, apriamo i collegamenti. Alba Parietti, ciao Alba, buongiorno. Enrico Silvestrin, ciao Enrico. Allora Alba, è quasi incredibile raccontare questa storia. Questa è incredibile, purtroppo è vera e stanno aumentando anche i numeri delle vittime. Non solo stanno aumentando i numeri delle vittime in questo caso, ma sembra quasi come dire che sia una cosa che va di moda. Nel senso, medici, ortopedici, ginecologi, cioè persone che utilizzano uno stato di inferiorità, di bisogno, di paura da parte del paziente per approfittare. Questo magari in presenza, oltretutto con delle modalità che fanno abbastanza impressione, perché, ripeto, oggi come oggi, se uno vuole fluire di sesso a pagamento piuttosto che su internet o mille altri modi, ha la possibilità di farlo, secondo me, purtroppo e per fortuna, in certi casi, con molta facilità. E il fatto di cercarlo proprio su delle vittime, su persone inermi, perché è questo che fa ancora più impressione. Probabilmente ho usato lettere, che era un vecchio anestetico che si usava per le operazioni, quelle più semplici, insomma, così in studi. Per cui, magari con la presenza del marito dall'altra parte, cose che abbiamo già visto in situazioni molto simili, in contesti completamente diversi, cioè da quello che vendeva gli appartamenti, a quello che... al ginecologo, all'ortopedico, ma tutte persone che hanno la perversione di voler mortificare, umiliare, oltre che violentare. Quindi delle persone che hanno sicuramente delle patologie, per cui a noi interessa veramente poco, perché sono dei professionisti che abusano, utilizzano il loro stato di superiorità per compiere dei gesti che non sono solo delle violenze, ma vanno molto al di là. Sono delle violenze con una perversione, un sadismo, un modo ignobile proprio di compierlo. Allora, vediamo... Rendendo la vittima inerme, tra l'altro, no? Come se fosse una bambola di pezza. Sì, esattamente, questo è l'approccio che questo uomo ha avuto con le pazienti, le sue pazienti, ma pensate che una donna va lì per curarsi e questo l'anestetizza e abuso di lei. Il marito che l'ha scritta fuori. No, io vorrei sapere dove sta questo uomo. Cioè, il fatto già che non sia in carcere uno così... Ah, certo. Avvocato Attilio De Marco, mi senti Roberta? Salve, buongiorno. Salve, dove sta questo medico, se dobbiamo chiamarlo medico? È stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare il 25 novembre, quindi si prova ai domiciliari però. Cioè, sostanzialmente la misura dei domiciliari è stata ridotta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari allo Stato. Non ha portato nessuno tipo di parola sua, di dichiarazione, di pentimento, di quello che ha fatto? Nulla di nulla? Non ha detto niente a questo signore? All'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attualmente ci sono ancora indagini in corso, io non so quali siano le scelte difensive, ma attualmente noi non conosciamo alcuna posizione presa da parte dell'indagato. Allora, possiamo ancora definirlo medico? Parliamo con Donato De Giorgi, presidente dell'Ordine dei Medici di Lecce, per cui scappiamo che questa cosa è accaduta a Lecce e probabilmente questo medico, questo ortopedico, lavorava in qualche ospitale pubblico, probabilmente di Lecce, ma questo lo presumiamo. È ancora medico? Se si può definire tale una persona che fa questo genere di cose o no? Intanto, come premessa, diciamo che non lavora in un ospedale pubblico, lavorava in una struttura privata, ma certamente il dubbio che si tratti di un medico, nel senso più ampio della parola, viene a tutti, perché è un fatto così grave che colpisce qualunque persona e che per qualunque individuo sarebbe assolutamente riprovevole e vergognoso. Per un medico è certamente qualcosa di ignobile, in quanto che il medico... Sente, mi sente? Mi scusi, perché io ho chiesto venerdì scorso alla mia inviata, giornalista che si sta occupando di questo caso, che cosa faceva prima della pensione. Roberta, tu mi avevi detto che lavorava in ospedale pubblico, o sbaglio? Eleonora, confermo, il dottore, penso che il Presidente stesse riferendo al luogo dove operava nel momento in cui ha commesso i reati, quindi sono partite le indagini, che è una struttura privata, ma ha lavorato in un ospedale, esattamente, ma ha lavorato in un ospedale che è convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Esattamente quello che ho detto io. Ha lavorato in un ospedale pubblico. Avevo detto che aveva lavorato in un ospedale pubblico e siccome è in pensione adesso lavorava nel privato. Questo ho detto, per cui non smentiamo questa notizia del pubblico. Sa perché, Presidente, ci tengo a questo? Perché probabilmente questo signore in 30 anni di carriera, e forse più chissà che cosa ha fatto con i soldi dei cittadini. Capito? Questo non lo sappiamo. Noi però siamo pronti, e siamo stati già pronti, a giudicare quello di cui sappiamo che ha fatto in quest'ultimo periodo. E quello che ha fatto, appunto, non è degno di essere annoverato tra le attività di un medico. Se noi consideriamo che l'articolo 3 del nostro codice deontologico, quello per il quale noi giuriamo da 2.500 anni, ecco, se noi consideriamo che il codice deontologico prevede la tutela della vita, della salute, della benessere di una persona, e poi proprio il medico che deve tutelare questo si macchia di una situazione e di atti così gravi, evidentemente noi siamo pronti. Noi siamo pronti ad effettuare il procedimento che non è tipico, e cioè che possa andare anche a prevenire quelle che sono le conflucioni. Scusi, Presidente, se no non riesco a capire. È sospeso? L'avete radiato o no? Sì, sì. Radiato? Una cosa radiata è un'altra. Noi lo abbiamo sospeso. L'abbiamo immediatamente sospeso in quanto che è agli arresti domiciliari. E quindi questo ha determinato la sospensione immediata che l'ordine ha combinato al collega. E se ci sarà giudizio verrà radiato? Se ci sarà un giudizio finale... E questo sicuramente. Sicuramente noi ci impegniamo che se venisse in qualche maniera accertato, così come sembra oltre ogni dubbio, gli eventi di cui stiamo parlando, evidentemente noi siamo disposti a radiarlo. anche prima la conclusione del procedimento penale. Grazie, Presidente. Grazie, tutto molto chiaro. A voi. Noi ci siamo. Sembra che abbiate fatto il percorso giusto e corretto che viene previsto in questi casi. Grazie. Allora, Roberta, noi continueremo ad occuparci di questa storia. Intanto ringrazio sia Maria che suo marito, Franco. Vi mando un abbraccio. Spero che veramente il vostro appello che chiunque vi sta ascoltando e si ritrovi e conosca la stessa storia che avete vissuto voi vi possa sostenere con un'ulteriore denuncia perché è chiaro che più denunce arrivano e più questo medico, quando andrà a giudizio, avrà ciò che merita per quello che ti è stato fatto, per gli abbracci che non stai dando ai tuoi figli, e per gli abbracci che non stai dando a tuo marito. Grazie. Grazie.